Amici sportivi di Superbasket, buongiorno dal coach Dan Peterson. Mi danno due minuti per parlare con voi di questo uomo qua, Giorgio Armani. Non si può parlare di uno così grande e così importante in due soli minuti, però mi limito a parlare poche cose. Non cito quello che ha fatto lui come il più grande stilista di tutti i tempi, indiscutibile, quello che chiude ogni sfilata a Milano perché dopo Giorgio Armani non c'è niente. Non parlo di lui come grande imprenditore che ha dato lezioni a tutti come gestire una ditta di alta moda. Non parlo di tutto il resto, parlo di uomo di sport e quello che ha salvato il basket a Milano. Uomo di sport già veste la squadra olimpica italiana, ho detto tutto. Ma il basket a Milano, il palacanestro Milano in genere, lui ha veramente salvato. Forse la gente dimentica che all'inizio degli anni 2000 la società olimpica Milano stava per essere venduta proprio a un gruppo di Genova, se non sbaglio, una cosa che sfida l'immaginazione, che urta i nervi. Anche pensare Giorgio Armani è subentrato a dire darò io la sponsorizzazione, il basket rimane qua a Milano. Come mai questo grande gesto da parte sua? Perché nelle vene di Giorgio Armani c'è l'olimpia e c'è il basket. Il suo fratello maggiore, Giorgio Armani dal 34, il suo fratello maggiore, Sergio, che non c'è più, dal 32, è stato nel vivaio dell'olimpia Milano, compagno di squadra di Alessandro Gamba, anche lui dal 32, quindi già collegamento con il basket e con l'olimpia. La sorella Rosanna ha giocato anche lei, palacanestro femminile, quindi ha anche grande connessione con la palacanestro. Ma quando ha preso, lui ha salvato veramente, all'inizio dei 2000, l'olimpia Milano con la sponsorizzazione. Poi nel 2008 ha detto, io devo prendere tutto in mano. Ha preso in mano lui, come proprietario e come sponsor, l'olimpia Milano. E questo secondo me non solamente ha salvato l'olimpia Milano, ma ha anche dato una grande mano alla palacanestra italiana, perché altre società hanno avuto benefici da questo qui. Uno poteva dire a possibili altri sponsor, Giorgio Armani è sponsor proprietario del basket, perché non entri tu? Quindi impatto totale sulla pallacanestra italiana, l'ha avuto lui e quindi questo non è un profilo di Giorgio Armani, è un piccolo, piccola lettera di ringraziamento a lui da me, da coach Dan Peterson. Amici sportivi, ciao a tutti!